bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio mini video io sono xyuderino perché il video è mini ragazzi e dovevo farvi vedere questa cosa ve la dovevo troppo fare vedere ragazzi ho pescato in giro per il web delle informazioni beh sugose della nuova carta che arriverà domani di una delle due nuove carte che arriverà domani e non sto parlando del fuciliere ragazzi quello maccione col basco e i baffi che abbiamo già ampiamente visto in questi due giorni bensì ragazzi sto parlando della tesla a rotelle lo andiamo a vedere proprio qua ragazzi la tesla kart se volessimo chiamarla con il suo nome in inglese e non è nient'altro che una tesla vedi un po sopra le ruote ragazzi costa 4 lo stiamo già vedendo ma ho di più ho di più per voi ragazzi guardate guardate sembrerebbe che questa sia già la sua scheda ufficiale come rarità è una carta rara quindi non comune come la nostra tesla che già conosciamo 350 punti salute per il livello 1 80 il danno ogni secondo ragazzi perché il danno è al secondo il target quindi gli obiettivi sono sia truppe sulla terra che truppe in volo ragazzi meraviglioso velocità very fast quindi molto molto veloce 4 le caselle del range cioè l'area dove va a colpire la nostra tesla e il deploy time che il tempo con cui viene generata sul nostro campo di gioco è di un secondo porca porca miseria ragazzi cannone a rotelle tesla a rotelle stanno facendo tutte le cose sulle rotelle le ultime info ragazzi prima di lasciarci è quello che ci viene detto nella descrizione il comes another masterpiece from master builder tesla on wheels è arrivata un'altra un'altro pezzo un altro grandioso pezzo dal maestro costruttore la tesla su ruote è veloce è fragile ed è molto electro cool aids devi dire è molto scioccante ecco diciamola così se volessimo dirla un po più simpaticamente beh ragazzi tesla a rotelle nuova carta tra le due che arriveranno domani con l'aggiornamento non potevo non dirvelo ragazzi dovevo proprio farci un video voglio che invece state voi a lasciare un sacco di like per questo video se vi è piaciuto il mega aggiornamento sembrerebbe e speriamo sia ufficiale della tesla a rotelle vi invito anche iscrivervi al canale e noi ci vediamo prestissimo ciao